adesso devi solo spingere il mio posto con destra però tu devi attacarmi bene però quando mi attacchi tuo loco che c'è qua viene un po' qua devi gestire il mio loco che c'è qua adesso provo solo attaccati bene bravo qua gomito a terra bene attacchi bene l'evo l'evo attacchi bene attacchi bene controlla mi con gambe con loco con dominali staccia bene non c'è libertà staccia bene staccia bene controlla mi con braccia attacchi bene adesso solo piccolo movimento niente altro spingere va capito niente spazio quando non sarà spazio la problema è di avversario che quelli che vogliono liberarsi ti aiutano perché più che fermi sono meglio per te se lui si relaxa magari prova uscire con culo di qua da questa presa di gambe magari avrà un po' di spazio però se lui vuole liberarsi per te questa è una cosa pazzesca questa è come tenersi di una barra se qui è una barra tu sei come un serpente presa fatta capito adesso se lo devi sentire come ti attacchi ok qua è importante pam polso attaccato leva buona tutto stretto si spalla bene fissata qua non devi fare tanto movimento si spalla libera se tu la lascia qua ascella qua si io sono libero se tu la spalla qua io sono fissato bene poi tuo braccio fissa il mio osso qua devi 5 cm non tanto capito si attaccati bene vedete mi sento libero attaccati ti piace ti piace con il braccio destro ti piace con il mio braccio destro no 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 così oh 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 e avanti vai 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 si però ridrizzo un po' di me braccio e con destra avvicinaci con destra con destra diciamo devi tirare con il braccio destro mia spalla verso di te e con destra spingere fuori no adesso to posto solo non tanto questo avambraccio si avambraccio spingere spalla verso di te invece con destra vai vai questo capito dai qui si 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 sono qua vedi niente non ti scaccio mai vedi vedi hai tanta libertà vedi ci sono qui con gamba ci schiaccio qui con spalla ci tengo poi guarda con questo osso guarda con questo osso si metto in centro di tuo braccio e spingo spingo guarda ok vedi prova a liberare già meglio si e adesso non serve tanto senti però se non farò questa cosa ci sarò qui guarda tu sei libero guarda guarda quanto movimento devo fare guarda si si quanta mobilità e tu puoi uscire anche si ma ci sono qui hop ti controllo ti controllo bene questo osso ti attacco attacco e vai devi cercare tutto così e poi spingere 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 la parte di braccio qua spingere e la scena sopra adesso fai solo questo momento magari 50 vuoi fai 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 hop campiano di là spingere non fai basta che attacchi bene altra parte senti bene oh vedi vedi cosa succede quando mi spalla io voglio redrisare invece tu devi pigarmi io redriso piegami io redriso piegami vedi e poi controlla anche il mio polso qua hop più alto più alto oh è vicino bene mia spalla vedi io voglio liberare tu è vicino oh adesso quasi sono pronto adesso senti già ti senti si si devi scherci bene verso di me gambe avanti no aspetta polso verso verso cielo ah poi posso diventare qua no su e dietro su diventare di là si 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 non qui ma qui deve là no guarda troppo si si go ah